Fuori dalla scuola, non ti avvicinare, stai nella tua iuola, lei non la baciare. Ma non mettete la mascherina? Eh, noi cosa ce ne frega tanto? Il virus non esiste, sono solo tutte palle che mettono in giro, ma noi non ci crediamo. Fallo per tuo nonno, fallo per chi è indifeso, fallo per chi è in affanno, fallo per chi è atteso. Dai, maleva sta cosa. Ma cosa fai? Eh, tanto non serve a niente. Fuori dalla scuola, non ti avvicinare, perché quel c***o di virus a casa te lo puoi portare. Ciao mamma, sono tornata. Noi ci sentiamo invincibili, ma se un azionitomatico mi passa il virus, io me lo porto a casa e posso infettare i miei vecchi. Non fidarti delle apparenze, anche se stai bene potresti essere positivo e infettare altre persone. Indossa sempre la mascherina e mantieni le distanze. Noi ci sentiamo. Grazie.